Mancano due settimane al mio rilentro, però sto recuperando bene. Per quanto riguarda l'orologio, sono molto contento di essere qui, di aver dato il via a questa iniziativa. È un brand ottimo, quello di Cronatec, quindi sono molto contento di indossare questo orologio. Ma tantissimo, perché sono stati due infortuni vicini, uno dietro l'altro, quindi sono quasi un mesetto, un mesetto e mezzo che sono fuori. Quindi ho tanta voglia di rientrare, di ritornare a giocare, a segnare e anche a rimontare, perché è comunque un momento non bellissimo. Ma diciamo che è un momento simile alla fine a quello dell'anno scorso, non è stato un buonissimo inizio, però come abbiamo visto anche l'anno scorso abbiamo fatto una grande rimonta, quindi speriamo anche quest'anno di riprenderci, anche adesso che rientrano gli infortunati, quindi speriamo di far bene. Io credo che Nel Sharawi sia quello della scorsa stagione, non del girone d'andato, di ritorno. Io ho sempre cercato di fare il bene per la squadra, mi sono sempre sacrificato per la squadra e ho cercato di dare il massimo, sia nella prima parte che nella seconda parte di stagione. I gol non sono arrivati, però comunque l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, l'obiettivo di squadra, che era quello del terzo posto, quindi sono contento così. Quest'anno, l'anno mio, sono soddisfatto perché credo che le uniche tre partite che ho fatto non le ho fatte malissimo, sono ritornato al gol, quindi sono soddisfatto.